Gli investimenti privati sono indispensabili per reggere il confronto con gli altri concorrenti del settore, a dirlo il sindaco di Salerno De Luca, seppur non rispondendo alle domande specifiche sul destino del bando per la privatizzazione della centrale del latte di Salerno, dopo l'uscita di scena dei big nazionali come Parmalat, Granaloro e Dima, mentre restano in corsa Newlat di Mastrolia, la quale fa capo l'agiglio, ed una cordata di produttori e distributori salernetani, De Luca ha comunque ribadito l'importanza che l'azienda possa disporre di investimenti da parte di imprenditori privati, di fatto confermando la volontà dell'amministrazione di andare avanti. La base d'assa resta fissata a 12 milioni e 790 mila euro per la seconda fase della procedura. Questa azienda è sana e funziona bene, nonostante però alcune aziende nazionali si siano tirate indietro? No, ma lo sanno bene che è una bella grande azienda e che ovviamente può ampliare la sua fascia di mercato solo a condizione che ci siano nuovi investimenti da fare. Il problema è questo. Oggi la concorrenza sul mercato da parte dei grandi gruppi, pensate, Parmalat è davvero spietata e quindi una qualunque azienda per reggere sul mercato ha bisogno di investire, di allargare le proprie quote di mercato. Stiamo lavorando in questa direzione, siamo molto fiduciosi. Per De Luca, tra l'altro, le produzioni come quelle della centrale del latte di Salerno sono un esempio virtuoso per evitare che i prodotti campani finiscano tutti all'agogna per i risvolti mediatici della terra dei fuochi. C'è l'inquinamento di zone, in particolare tra il casertano e il napoletano, per l'interramento di scarte e rifiuti tossici da parte della criminalità organizzata. Dobbiamo sapere che la vicenda della terra dei fuochi è dell'area casertana napoletana ma ha una ricaduta su tutte le produzioni campane e quindi facciamo bene a promuovere iniziative a tutela dei nostri prodotti che sono prodotti davvero eccezionali. Noi abbiamo, fra l'altro, delle produzioni agricole e venicole che sono davvero di altissimo livello. Come avete visto questa mattina, fra ristoratori e produttori agricoli c'è stata una grandissima attenzione. Quindi davvero questo è un segno di speranza per il futuro produttivo del nostro territorio. Intanto il consigliere comunale e provinciale Antonio Cammarota ha scritto nuovamente al sindaco De Luca sulla questione della privatizzazione della centrale del latte di Salerno, ricordando come a Firenze, Renzi abbia deciso per la quotazione in borsa della società pubblica del latte. Per questo motivo, anche in forza di 1300 firme raccolte dall'Associazione della nostra libertà, Cammarota ha chiesto un confronto sereno e costruttivo e una riflessione sulle opportunità della vendita, così come concepita, privilegiando ipotesi diverse che risolverebbero, secondo il consigliere comunale e provinciale, ogni problema dal bilancio previsionale, ai ricorsi giudizi a dipendenti, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, a tutte le criticità emerse nel corso di questi mesi e soprattutto al rispetto dell'identità e della tradizione della terra salernitana. Il riferimento va a forme consortili, public company, con intervento di fondazioni come Carisal che pure avrebbero manifestato disponibilità ed altre istituzioni, Camera di Commercio, Confagricoltura, Confindustria ed altre, e con forme di azionariato popolare e quindi di partenariato privato, perché la forza economica soprattutto sia il radicamento sul territorio.